Quanti anni si augura di stare ancora in pensione? La Zinger mi ha detto 109 anni. Io sono diversamente giovane, quindi ancora parecchio. Non si sa, siamo sotto il cielo. Saremo pure sotto il cielo, ma i numeri parlano chiaro. Abbiamo fatto un calcolo che dal 2010 si sta in pensione mediamente per 17 anni e 6 mesi. La durata media del periodo di pensionamento è rimasta sempre la stessa perché all'aumentare della speranza di vita aumenta in automatico anche l'età pensionabile. Si vive di più e si va in pensione più tardi. Gli assegni però scendono. Negli ultimi otto anni i coefficienti che calcolano gli importi delle pensioni sono stati aggiornati a ribasso e quindi anche le pensioni degli italiani si sono ridotte. E il 2019 sarà per certi versi un anno zero perché questi due automatismi si rinnovano. Da un lato l'età pensionabile avanzerà di 5 mesi e arriverà a 67 anni. Il governo su questo non ha voluto sentire ragioni. Dall'altro... Si dovranno aggiornare di nuovo i coefficienti e anche in questo caso si stima che la riduzione sarà di circa il 2%. Risultato? La pensione sarà sempre più lontana e sempre più bassa.